Pasqua non è una festa soltanto legata a una data del calendario. È un evento che può dare speranza al momento grave che stiamo vivendo, sia a livello personale, sia a livello del nostro paese, sia dell'Europa e del mondo. Di fronte a una crisi economica, ma soprattutto morale e esistenziale, di fronte a questo flusso di immigrati che vengono dal sud del mondo e del terrorismo fondamentalismo islamico, che dire? Cosa c'entra il Gesù di Nazareth? Il Figlio di Dio che è venuto sulla Terra ha condiviso la nostra vicenda in tutte le sue espressioni fino al rifiuto totale dell'esistenza, assumendo la propria esistenza nella realtà umana. E quindi il Dio che ha donato la propria vita per noi ci dice che c'è possibilità di cambiare il mondo se ci lasciamo amare dal Dio di Gesù. E il Dio di Gesù è un Dio che sulla croce perdona quelli che lo stanno condannando. È un Dio che ad un certo momento dona la propria vita per liberarci dal male. E proprio perché ha assunto la vicenda umana fino a donare la propria esistenza, la vita umana è vita eterna. E termino il mio augurio rivolto a tutti quelli che vedranno o ascolteranno il risicone online con il biglietto di augurio di quest'anno collegato anche con il Giubileo. Uno dei doni più belli e sorprendenti della Pasqua di Cristo è il perdono e la misericordia di Dio. La sera di Pasqua Gesù dona ai Suoi discepoli lo Spirito Santo con il potere di perdonare. Lasciamoci riconciliare dal Dio di Gesù per sperimentare la gioia del perdono e la capacità di regalare perdono. Può essere provocante e contraddittorio. Io ho pregato per le vittime di Bruxelles ma anche per chi si è tolto la vita per togliere la vita agli altri. Ho pregato per tutti perché anche chi ha la pretesa di destabilizzare il mondo si è messo in crisi dentro di sé perché solo l'amore, solo il perdono ha la capacità di costruire un mondo nuovo perché facciamo parte della stessa famiglia di cui Dio è il Padre e noi siamo i figli. Buona Pasqua a tutti! Grazie a tutti!